Canale YouTube di Luigi Gaglio Analisi logica della frase semplice La frase semplice e i suoi elementi Ecco, la frase, una frase Ecco, una frase e un insieme di parole che però abbiano un senso logico strutturate secondo, ecco, anche un ordine usuale Generalmente, scusate, generalmente in una frase italiana c'è il verbo alla fine No, mai, quasi mai Però, se vi chiamate Mastro Yoda, magari oppure se volete scrivere in latino allora dovete mettere il verbo alla fine, ovviamente Bene, allora La frase è una sequenza di parole dotata di significato logico che esprime un pensiero di senso compiuto Esempio Un bambino piange Che tempo che fa fuori Non che fuori il tempo che fa Vi sembra che fuori il tempo che fa sia una frase una sequenza di parole dotata di significato logico Non so Poi Un televisore piange Il tempo fa fuori Ah, sì, ecco, si è appunto Queste frasi, invece Queste sono frasi senza significato logico Cerca per un quando io Che fuori il tempo che fa Insomma, magari sintatticamente scorrette Le frasi, perché abbiano un senso compiuto devono anche essere ordinate in un certo modo Concordate secondo le regole grammaticali In sequenza logica Raul studia la lezione di scienze È una sequenza logica Il verbo studia È concordato col soggetto Raul La scienza studia di lezione Raul Invece non è una sequenza logica Il libro chiuse la porta Il libro è un oggetto Non può compiere azioni Ecco, qui per esempio abbiamo due frasi Il tempo oggi è migliore di ieri È una frase Il tempo è il ieri Di peggiore oggi Non è una frase Anche se ci sono le stesse parole Ma sono combinate in un modo tale Che non possano formare una frase Le parole che compongono la frase Non hanno tutte la medesima importanza Non sono tutte indispensabili A trasmettere l'informazione Il numero delle parole è variabile Una delle cose fondamentali in una frase È evidentemente il verbo Certe volte può bastare un verbo Per comporre una frase Piove, nevica Ecco, la frase semplice O proposizione È la frase che ha un solo verbo Quando abbiamo invece più verbi Possiamo parlare di frase complessa O periodo Ad esempio Ho mangiato una mela perché avevo fame E noi quest'anno Analizzeremo una frase semplice Quindi una frase con un solo verbo L'anno prossimo invece Studieremo la frase complessa Cosiddetta analisi del periodo Ecco, noi quest'anno facciamo L'analisi logica di una frase Quindi di una frase semplice Infatti ricordate Il titolo della lezione di oggi Era proprio questo L'analisi logica di una frase semplice E' una frase semplice Per esempio Ho comprato un nuovo cd E' una frase semplice Invece Ho comprato il nuovo cd Che mi avevi consigliato E' una frase complessa Ci sono due verbi Ecco La frase semplice Ecco A questo proposito Potremmo anche utilizzare Un altro termine Che trovate Alla pagina 347 Che è il termine Frase minima Per frase minima Intendiamo la forma base Della frase semplice Costituita dagli elementi Strettamente necessari Esprimere un senso compiuto Quindi tipicamente Il soggetto Più il predicato Quando c'è un soggetto Più il predicato Abbiamo una frase minima Esempio Lo spettacolo inizia Possiamo parlare Di frase nominale Quando il verbo È sottinteso Frase estesa O espansa Come la chiama Insomma Il vostro libro Quando si espande La struttura di base Aggregando Attorno agli elementi Essenziali Altre parole O gruppi di parole Esempio I pesci nuotano Veloci nella vasca Non c'è solamente Il soggetto Il predicato Ma ci sono anche Altri elementi Ci possono essere Vari tipi di espansioni Espansioni complementi Espansioni a posizioni Espansioni attributi Per esempio Qua c'è Veloci In questo caso Un predicativo Del soggetto È però un aggettivo Nella vasca È un complemento La proposizione È un insieme di parole Che esprime Un senso compiuto Il periodo Invece È l'espressione Di un pensiero Di senso compiuto Per mezzo di più Proposizioni Gli elementi essenziali Della proposizione Sono il predicato E il soggetto Quando c'è il predicato E il soggetto Si parla di frase Minima Frase minima Esempio Il sole scalda Ecco Questa è una frase minima Dove c'è per esempio Il soggetto È il predicato Abbiamo evidenziato In blu Azzurro Il soggetto È in rosso Il predicato Per esempio La mia vicina di casa Canta in arabo Sono evidenziati Quegli elementi Essenziali Che sono il soggetto Il predicato Con dei colori diversi L'azzurro E il rosso Mentre in bianco Ci sono Delle espansioni Che possono essere Come abbiamo detto Degli attributi Come mia Possono essere Dei complementi Come di casa La vicina canta È la frase minima Potrebbe bastare La vicina canta Come frase minima Poi Possiamo espanderla In arabo Per esempio Un complemento Tutti i giorni Un altro complemento Eccetera Se togliamo Tutte queste espansioni Come vedete Rimane La frase minima E quindi Ciò che è Essenziale Costituito da Il soggetto Più il predicato Più il verbo Ecco Il predicato Può essere Verbale O nominale La volta prossima Studieremo Soprattutto Tutta questa cosa Cioè La questione Dei predicati Distingueremo Insomma Fra verbali E nominali Il soggetto Spesso non è da solo Ci sono molti Molti elementi Che sono riferiti A soggetto Per esempio Abbiamo detto Una posizione Che è un nome Oppure Un aggettivo Un pronome Beh Attenzione Il pronome Diciamo che Sostituisce il nome Quindi Generalmente È da solo Cioè Fa le veci Del nome Il soggetto Può essere Qualunque parte Del discorso Ecco Questo è quello Che forse Era da dire Ma questo Probabilmente Già lo sapete Cioè Può essere Un nome Un aggettivo Un pronome Può essere Anche altre parti Del discorso Aggettivo Sostantivato Generalmente Può essere Il soggetto Il soggetto Può essere Sottinteso Il gruppo Del soggetto Comprende Tutti gli elementi Che si riferiscono Al soggetto Facciamo un esempio Allora Vediamo questa frase Gianni studia Gianni studia Di per sé Era più che sufficiente Era praticamente La nostra frase Minima Però Possiamo avere Altri elementi Che completano Il soggetto Quindi Per esempio Il gruppo Del soggetto Abbiamo detto Quindi Possiamo avere Delle apposizioni Degli attributi Eccetera Dei complementi Perché anche I complementi Possono Completare Il soggetto Ad esempio Di Pozzuoli Complemento Di origine Ecco Il gruppo Del soggetto Infatti Comprende tutti Gli elementi Che si riferiscono Al soggetto Predicato Invece Abbiamo detto Che ne parleremo Anche La volta prossima Nella lezione prossima Però è importante Sapere Che indica Ciò che si dice Del soggetto Ciò che succede Del soggetto Oppure ciò che subisce O fa il soggetto Può essere verbale Qualsiasi forma verbale Delle tre coninguzioni Are e reire Del verbo avere Deve avere forma compiuta Nominale Col verbo essere Il predicato nominale È quello col verbo essere È formato Da verbo essere Infatti Accompagnato da un nome Da un aggettivo Che completa Il senso del verbo Esempio Gianni È simpatico È È la copula È simpatico È il nome del predicato Parte nominale Del predicato nominale Insieme Formano Il predicato nominale Se cambio verbo Proviamo Allora vediamo un po' Gianni È simpatico Predicato nominale No? È copula Simpatico Parte nominale Proviamo a cambiare verbo Gianni Sembra simpatico In questo caso Abbiamo un verbo Copulativo Cioè che si comporta Come verbo essere Svolge la stessa funzione Del verbo essere Però Non lo chiamiamo più così Ecco Lo chiamiamo Predicato verbale Più predicativo Del soggetto Però Di fatto Da un punto di vista logico Svolge la stessa funzione Possiamo anche chiamarlo così Verbo copulativo Così facciamo capire Che si comporta Come verbo essere Svolge la stessa funzione Del verbo essere Cioè quella di unire Il soggetto Con la parte nominale Di unire il soggetto Col predicativo del soggetto Copula Vuol dire semplicemente questo Fa abbracciare Fa unire Questi due elementi I verbi copulativi Svolgono una funzione simile Al verbo essere Nel predicato nominale Legano cioè Un nome aggettivo Al soggetto Sono verbi transitivi Come sembrare Parere Diventare Nascere Morire Ecco per esempio Quando noi diciamo Nasce fortunato Oppure morì felice In questo caso Abbiamo Dei verbi transitivi Che Semplicemente Uniscono Il soggetto Con questo Predicativo del soggetto Ci sono però Dei verbi intransitivi In forma passiva Che reggono Anche loro Il predicativo del soggetto Che sono gli appellativi Gli estimativi E gli elettivi Ecco appellativi Come chiamare Dire È chiamato È detto Il grande Alessandro È detto Magno È detto il grande Estimativi È stimato È ritenuto È giudicato Elettivi E leggere Non mi hanno eletto Non hanno eletto me No? Questo però è l'attivo Invece il passivo Non è stato eletto Deputato Ecco questo È un esempio Proprio di Dicevamo Di verbi Che si comportano Più o meno Come il verbo essere Cioè che reggono Un predicativo del soggetto Ritornate adesso invece Alla pagina 348 Parliamo dei sintagmi Che cos'è un sintagmio? Appellativi Elettivi Ed estimativi Sono Verbi Che al passivo Però non all'attivo Al passivo Reggono Un predicativo del soggetto Quindi più o meno Si comportano come verbo essere Più o meno Sì? Vuoi rivedere ancora questa slide? Benissimo Comunque Tieni presente Che queste cose Su queste cose Ritorneremo Perché sono cose fondamentali Quando studieremo I predicativi Infatti Ritorneremo a parlare Di questi verbi Appellativi Elettivi Estimativi Eccetera Che proprio Reggono i predicativi Reggono i predicativi Del soggetto Quando sono al passivo Reggono i predicativi Dell'oggetto Quando sono all'attivo Bene Adesso ritornate Dicevo Alla pagina 348 E parliamo dei sintagmi La parola Syuntagma È di origine greca E vuol dire Composizione Struttura È la stessa parola Scusate Che Che poi è l'origine Anche di sintassi Il sintagma È l'unità minima Della frase Può essere costituito Da una parola sola Oppure da un gruppo Di parole Che svolgono Una medesima Funzione Ci sono Quattro tipi Di sintagmi Li trovate Elencati lì Sulla slide Prima di tutto Il sintagma Nominale Incentrato Su un nome Un pronome O una qualsiasi parte Del discorso Che svolge Funzione di nome Poi c'è Il sintagma Verbale Costituito Da una voce Verbale Può essere Composto Da un verbo Semplicemente Come abbiamo già detto Oppure Da due verbi Uno di questi Sarà servile Frasiologico Più infinito Magari No? Oppure Dicevamo Il predicato Nominale Anche quello È un sintagma Verbale Poi c'è il sintagma Preposizionale Formato da una preposizione O una locuzione Preposizionale E da un sintagma Nominale Per esempio Per mezzo della bicicletta O con la bicicletta È un sintagma Preposizionale Poi c'è il sintagma Avverbiale Formato da un avverbio O da una locuzione Avverbiale Poniamo più l'accento Su sintagma Avverbiale Perché sintagma Avverbiale Da solo Un avverbio Svolge una funzione Logica L'aggettivo Da solo Non è detto Che svolga Una funzione Logica Ma spesso Si aggiunge Al nome Semplicemente Un attributo Quando è attributo Non è un Un sintagma Diciamo Autonoma Concludiamo La nostra spiegazione Di oggi Con il gruppo Del soggetto E il gruppo Del predicato E questo è fondamentale Perché oltre Al gruppo Del soggetto Può esserci anche Il gruppo Del predicato A esempio Sintagmi Preposizionali Sintagmi nominali Eccetera Che completano Il predicato A esempio A dicembre Arriva la festa Del Natale La festa Del Natale Soggetto Gruppo del soggetto E mentre Arriva Mi anche Anche in forma In critica Sono da analizzare A parte In una frase Non ho potuto Leggere L'ultimo Libro di Dante Costruzione Diretta Io Soggetto Sottinteso Non ho potuto Leggere Predicato Predicato verbale Perché i servili E i frasiologici Vanno Il libro E complemento Oggetto Ultimo E attributo Del complemento Oggetto Di Dante E complemento Di specificazione Gli elementi essenziali Di ogni frasi Sono il soggetto Che indica La persona All'animale La cosa Di cui parla Il verbo Il predicato Che esprime Ciò che si dice Di quel soggetto Formato da un verbo Esprime un'azione Un modo di essere O una situazione